Poglionite qua, si sono messe a prendere per il culo e a fare il verso a una coppia asiatica sul treno gli facevano nia, o ridevano, insomma prendevano per il culo e il problema è che statista qua, mi pare tipo, forse una sorta di, diciamo, di influencer asiatica gli ha fatto il video e ha pubblicato su i social vabbè, due o tre qual è il punto? Che sono arrivati a scoprire quali sono i social media di queste ragazze Instagram e quant'altro, allora la gente ha cominciato a scrivergli minacce di morte insulti, è roba varia allora io nel video ho detto va bene che abbia fatto il video va bene punire queste ragazze con una tirata d'orecchi ma mi sembra un attimino esagerato che la gente prenda e si faccia giustizia da sola iniziando a incitare, a minacciare di morte due ragazze, voglio dire anche perché, cioè, non è che hanno commesso un reato, un omicidio voglio dire, sono state delle teste di cazzo fino a qui ci siamo, però, voglio dire cioè, andarlo a minacciare di morte sui social mi sembra un tattino esagerato e niente, quel video mi è stato rimosso per molesti e bullismo perché ho detto che minacciare due ragazze sui social è troppo ci sta, effettivamente è vero mi rendo conto di aver sbagliato anch'io effettivamente è vero, hai ragione TikTok effettivamente mi sembra il caso di prenderle e metterle al patibolo e sparargli in faccia e beh, ha ragione anche TikTok, voglio dire cioè, io stronzo che mi metto a dire che minacciare due ragazze sui social è forse un filino esagerato in proporzione a ciò che è avvenuto mi sembra giusto, hai ragione dovevo dire che andavano i crocifissi in sala mensa dovevano essere impiccate queste bastarde comunque vediamo un attimo il video ragazzi benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo di qualcosa che mi avete segnalato davvero in tantissimi una vicenda che come protagonista è tre ragazze italiane che sono state blastate, distrutte da praticamente tutto il mondo a causa di un TikTok che audio sarà altissimo come sempre immagino ovviamente tanto per cambiare di fatto l'ha rovinato la vita e la reputazione in pratica una ragazza era in vacanza con il suo fidanzato cinese e la famiglia di lui qui in Italia e si trovavano tutti su un treno su questo treno c'erano anche queste tre ragazze che a quanto pare sarebbero state razziste con questo gruppo di turisti e quindi questa ragazza ha deciso di filmare le tre italiane e pubblicare il video su TikTok che è diventato incredibilmente virale decine di milioni di views e di risposte questa ragazza nella descrizione del video ha scritto mi trovo sul treno dal lago di Como a Milano il 16 di aprile con il mio fidanzato e dirigini cinesi sua mamma cinese e suo padre, un uomo bianco io sono pakistana, siamo tutti statunitensi all'inizio lo ignorate, poi lo fissate ho chiesto a loro c'è qualche problema e mi hanno detto no, non c'è nessun problema a quel punto hanno iniziato a dire niao con voce odiosa, razzista, forte insieme ad altre cose in italiano che non riusciva a capire ah, e poi per la montagna avremmo bisogno di una casa ma cosa... ma sembrava collegata era il continuo del discorso ahahahahahahah vabbè, perfetto l'altra cosa non riuscivo a capire ah, e poi per la montagna avremmo bisogno di una casa ahahahahah due zaini, un kayak, un'auto ma è bellissimo ma nella mia vita ho fatto esperienza di un razzismo così palese anche il mio ragazzo sostiene la stessa cosa mi aspettavo di meglio dalle nuove generazioni ma guarda, nuove generazioni qui è sempre il solito discorso generalizzare come sempre tutto, capito? generalizzare tutto come è ovvio che sia, perché siccome tre deficienti fanno le deficienti allora è tutta la generazione il problema ovvio, fa da via l'America potrà avere i suoi problemi con il razzismo ma l'Europa è indietro di vent'anni però che... no, guarda zia, guarda, no ti assicuro Stone, grazie per i quattordici patina, morta in panda grazie per i sette, grazie per i sette no, no, zia, no, no te l'assicuro non c'è, non c'è è proprio il contrario non c'è neanche un lontano paragone tra l'Europa e l'America zia, no, no che voi italiani riusciate a trovare queste ragazze e a farle vergognare è stato un comportamento veramente disgustoso e spero che imparino una lezione è così deumanizzante sperimentare tutto questo parole molto pesanti di questa tiktoker no, ma non hai capito non ho detto che non se lo merita non lo stai capendo il discorso non è il video perché il video hanno fatto bene lei ha fatto bene a pubblicare il video ha fatto bene il problema sono le persone che hanno trovato i social e hanno cominciato a minacciarle di morte è quello il problema, hai capito? gira e grazie per i quattro patino, grazie per i sub perché dal momento che tu minacci di morte una persona automaticamente stai già stai già facendo diventare quella persona la vittima Fox, grazie per i 9 patino, grazie per i sub cioè, queste persone hanno fatto diventare anche queste due ragazze le seconde vittime della situazione perché è inevitabile cioè, hanno chiamato l'università hanno chiesto di espellerle ho visto i commenti su tiktok una ha detto bisogna arrestarle sì lapidiavole in piazza cazzo fucilata in bocca basta crocifisce in mezzo alla strada oh, voglio dire però, scusate a questo punto se applichiamo questa logica crocifisce grazie per gli 8 patino, grazie per i sub se applichiamo questa logica cioè, i ladri li spariamo in faccia immediatamente se applichiamo questa logica ai ladri li spariamo in faccia subito i criminali vanno tutti uccisi immediatamente eh, grazie per i 5 patino grazie per i sub cioè, se bisogna arrestare e cacciare dall'università due tizie allora, qualsiasi criminale deve morire perché la proporzione è quella non è che i serial killer li mettiamo in galera no, la proporzione è quella lì voglio dire cioè, scusate quindi, boh, però perché commenteremo dopo aver visto il video completo per avere un contesto più rappresentativo di quello che è successo prima di vederlo però se non siete iscritti è il momento giusto per farlo bravo, stai giocando a The Dayland 2 cosa che faremo anche noi dopo la parte reaction siamo quasi a 150.000 grazie a tutti quelli che lo faranno I'm Italian and I try to guess what they actually said and translated it ma non c'è 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 ma questo questo è il discorso ma ce l'ha detto ma non c'è ma non c'è ma non c'è pensabbi adesso no Pikachu sono solo stupide come la merda non sono drogate sono solo stupide sono solo stupide sono solo stupide come la merda ma non è che c'è ma guarda che hanno vent'anni nel senso sono ragazzine ma hanno vent'anni ho messo il video di una che ha messo i sottotitoli perché onestamente nemmeno io avevo capito metà delle cose che dicono ma questo è quanto praticamente loro tre che continuano a ridere che parlano tra di loro e ripetono Niao che sarebbe ciao in cinese che per qualche motivo le fa molto ridere ma perché sono sceme perché sono stupide zia grazie per il senso ora dopo che questo video è diventato virale c'è stata una vera e propria bufera giornali se italiani che internazionali che ne parlano un sacco di risposte giornali ma come giornali se italiani che internazionali che ne parlano giornali abbiamo un'inchiesta chiamiamo i ris di Parma è un abbandonno parlano un sacco di risposte insulti eccetera a volte quando dei video diventano così virali ci sono persone che hanno idee molto diverse chi li difende e chi no ma non è che sono Vince grazie per i quadro Valentino grazie per i sab il problema è la gente che fa il video solo per farle visual è quello il problema perché purtroppo nel mondo in cui viviamo adesso la gente cerca sempre qualsiasi scusa per fare un video e fare visual cioè io sono convinto che all'80% delle persone che hanno fatto questo video qui lo hanno fatto solo perché sapevano che era un video che portava visual cioè la gente purtroppo la gente è merda la gente è merda è un aspetto altro che queste occasioni per fare video dove fanno ora io non sto dicendo che queste ragazze abbiano fatto bene perché sono cioè ti viene proprio ti viene quell'istinto di dargli uno schiaffo ma ti c'è tu vedi questo video e la prima istinto che ti viene è andare lì e dargli una pizza in bocca a queste qua ma ti viene quell'istinto e ci sta lo capisco anche io capisco cazziarle capisco farle la manzina però ragazzi diffondere sta roba tutto cioè il problema è che diffondi questa roba a tutto il mondo la gente la gente poi la gente si arrocca il diritto di credere di poter giudicare cioè è quello il problema se voi se voi voi pensate alle persone che conoscete pensate alle persone attorno a voi cioè pensate che quelle persone siano quelle giuste a guidare impasto delle ragazzine io no perché io la gente che vedo fuori per un buon 60% è idiota cioè nel senso non mi verrebbe neanche in mente perché voglio dire concepisco come cavolo le sia venuto in mente a questa tizia di mettere su internet le facce di due ragazzi ma guarda quello quello è un altro discorso però va bene se voleva vendicarsi gli faceva una denuncia per razzismo ma che razzismo questo è troppo non puoi non puoi denunciarle per razzismo perché quello che hanno fatto oggettivamente parlando non è così tanto razzista da applicare una denuncia dire Niao a un giapponese non è razzista al punto da dire che gli fai una denuncia non puoi non c'è proprio l'elemento è maleducato ma non è razzista la denuncia manca l'elemento puoi chiamarlo pseudo razzista pseudo razzista perché altrimenti altrimenti sai quanta gente a me che sono italiano mi diceva italiano pasta mandolino non è che andavi in questura a denunciarli voglio dire cioè il discorso però il discorso qual è? che poi la gente è idiota cioè abbiamo noi in Italia abbiamo 15% di persone che credono che la terra sia piatta i complottisti gli estremisti cioè noi tra tutti questi idioti pensiamo che questi idioti abbiano il diritto di giudicare delle persone no non ce l'hanno non ce l'hanno perché la gente è idiota non ce l'ha tantomeno la gente può pensare di fare giustizia sociale che vai a minacciare le persone poi minacciare minacciare tramite internet perché nella vita reale la vita reale si cagano sono tutti quanti paladini sono tutti quanti paladini della giustizia dietro a uno schermo poi nella vita reale si cagano addosso vabbè quello è l'altro discorso però voglio dire non è che si fa così non è il modo di agire altrimenti ognuno fa il cazzo che vuole altrimenti io io allora mi voglio far giustizia sociale da solo vado a Milano e risolvo il problema delle borseggiatrici lo so come risolvere mi faccio giustizia sociale non mi state insegnando questo? non mi state insegnando che una persona può farsi giustizia sociale non c'è problema io vado a Milano e risolvi il problema giustizia sociale ognuno ha il diritto di fare quel che vuole no? e allora voglio dire cioè quindi il discorso è assolutamente idiota perché adesso tutte queste persone che cagano il cazzo a insultare no no perché adesso queste qui sono diventate delle vittime queste qui sono diventate delle vittime stanno facendo la parte della vittima quando loro non sono la vittima loro sono delle teste di cazzo non sono la vittima però non è che hanno fatto una cosa vecchia cioè non è che hanno fatto una cosa che dici bisogna processarle con rito abbreviato c'è la madonna dai zio cioè Raf grazie per i 18 Martino grazie per i 18 è la cosa che mi sta ancora più sul cazzo sono i commenti di quelle persone che dicono eh in Italia sono razzisti in Italia sono tutti razzisti no ciccia no non siamo tutti razzisti in Italia c'è un problema di razzismo ma c'è in tutto il mondo c'è in tutto il mondo tesoro perché io ho viaggiato a Parigi io ho viaggiato a Berlino e io le ho sentite delle persone dire che gli italiani sono delle merde ma non è che pensavo che tutti i francesi o tutti i tedeschi fossero delle teste di cazzo pensavo che quella persona che l'ha detto era una testa di cazzo lui non tutta la popolazione dello Stato quindi tesoro no il razzismo c'è ovunque non è che gli italiani sono razzisti perché hai trovato delle minchione poi razzisti dai ragazzi ma di che cazzo ma che razzisti dai queste prendevano per il culo non è che per forza è razzismo dai ragazzi su adesso hanno fatto una cosa molto aperta chiuse virgolette razzista molto aperta chiuse virgolette razzista pseudo pseudo razzista dai direi in questo caso direi che la quasi totalità di chi ha commentato l'ha fatto criticandole l'unica discussione che c'è stata è tra chi dice che queste tre ragazze sono razziste e chi invece dice che in realtà non lo sono ma sono solo stupide sinceramente io penso che sia una questione abbastanza superflua non conosco queste ragazze e come sono nella vita reale e giudicarle per 60 secondi di video potrebbe non essere sempre giusto piuttosto credo che abbia più senso commentare quello che è successo che è un dato di fatto ed è che si sono comportati in modo ridicolo prendendo in giro delle persone perché sono cinesi mettersi a scimiotare un'altra lingua tossire per nascondere quando fanno le loro battutine penso che potrebbe essere considerato divertente solo 6-7 anni e va in seconda elementare infatti faccio veramente fatica a capire perché gli facevano ridere così tanto quelle battute forse il problema è che ci manca al contesto quindi quello che è successo prima dato che anche la tiktoker che ha pubblicato il video ha detto che il confronto c'è stato prima che iniziassi a registrare quindi è possibile che magari ci manca qualcosa che non sappiamo ma in generale da questo video per quello che è stato ripreso ne escono veramente male come tre bulli che prendono in giro dei turisti una cosa divertente però è che a un certo punto una dice che finiranno su fanpage e alla fine ci sono finite per davvero comunque fatto sta che il video viene pubblicato e le conseguenze sono disastrose per queste tre ragazze milioni di persone in tutto il mondo che le insultano e questa non è nemmeno la cosa peggiore perché le persone dopo aver visto questo video tra l'altro come è anche stato chiesto dalla tizia che le ha pubblicato si sono messe a cercare chi sono queste ragazze e dopo ve le trovate hanno condiviso online le loro informazioni private i loro nomi i loro account social perché la gente è idiota perché la gente è idiota la gente è idiota non c'è un cazzo da fare ragazzi la gente è idiota non c'è niente è così è un dato di fare è così cioè ma io voglio dire ma a voi cioè adesso al di là del loro comportamento ma a voi verrebbe mai in mente di condividere pubblicamente dei dati di qualcuno perché volete che venga insultato cioè ma voglio dire a me non sembra un ragionamento così complesso cioè io capisco io capisco commentare negativamente capisco segnalare la questione o fare in modo che ci siano delle ripercussioni che poi ripercussioni oh ragazzi ripercussioni non è che sia successo niente di così drammatico eh erano tre deficienti che hanno fatto le bullettine oh non è che abbiamo mai mandato in galera qualcuno per sta roba qui adesso non ne ageriamo dai però voglio dire come cazzo ti viene in mente cioè ma quanto devi essere idiota per fare una roba del genere Jasmine grazie per di sé a morte cioè veramente grazie per di sé un patatino cioè anche perché poi ragazzi la dimostrazione è che la gente è idiota sai qual è che io ho visto dei tiktok di più di una ragazza di più di una ragazza che si è trovata i DM di Instagram pieni di insulti ma non era una di quelle era una ragazza che si chiamava simile cioè ho visto dei tiktok di ragazze che si svegliavano e dicevano mi sono trovato Instagram pino di insulti nei messaggi privati e dicevano ma che cosa ho fatto scusate insomma perché non ho mica capito poi hanno visto il video e hanno realizzato che l'hanno insultata perché la tipa si chiamava simile a quell'altra allora la gente se sbagliate la insultate Andrea grazie per lo San Palatino cioè questa ragazza ha dimostrazione che la gente è idiota ma la gente è idiota non c'è niente da fare le loro famiglie le università che frequentano eccetera e a questo punto tutta questa orda di persone che le odia ha usato queste informazioni per scrivere insulti direttamente a queste ragazze e contattare le università che frequentano per chiedere di cacciarle ma tu ti immagini che c'è uno con tutto con tanti l'università per chiedere di ah 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 ragazzi ma se io fossi stato il tipo all'università l'avrei detto senti ma vaffa ancora sì sì devi cacciarle ho visto il video su ticche tocche sono brutte devi cacciarle la loro vita deve finire ne volete rovinate porca troio beh mi fate dire voglia più di tardi sberle a voi che a ste due qua porca puttana le università hanno ricevuto così tante segnalazioni che hanno effettivamente risposto pubblicamente e leggeremo i comunicati che hanno fatto ma prima direi di vedere le risposte di queste ragazze che hanno contattato direttamente la tiktoker che ha pubblicato il video non c'è nessuna intenzione di essere racista o offensiva con nessuno vabbè ma che cazzo aspettavo che dici scusa scusa ma che cazzo senza ascoltare le risposte abbiano già più ragione insultare o minacciare qualcuno che pensa abbia insultato qualcun altro alla fine non ti rende così tanto superiore di chi stai criticando no specialmente perché è gente imbecilla è gente imbecilla è gente imbecilla cioè è buono che la metà della gente che li ha insultata è gente che crede che le piramidi li abbiano fatti gli alieni la terra si abbiata e il vaccino ti rende autista cioè quindi voglio dire ma vado avanti quindi sentiamo come ha risposto questa tizia so this is what I replied the fact that even after being publicly shamed by millions of people you are trying to manipulate and gaslight me shows that not only is this a completely insincere apology but also that you knew exactly what you were doing you and I both know that the worst of your behavior is not even on the video I gave you every opportunity to stop again and again even now you had an opportunity to make a real apology and grow as a human being but you didn't take it next time I hope you'll think twice before you scream ni hao at chinese people or call a brown person a monkey or try to intimidate and mock foreigners you ruined your personal reputation and as a representative of your country you ruined your country's reputation si guarda sicuramente ovvio perché queste due tizie rappresentano l'italia certo ovviamente certo ovviamente you also ruined our trip my boyfriend's chinese mom is in her 60s she has seen a lot of hate towards asians in her life and at her age she does not deserve this you are the real racists and you have a lot of work to do on yourself I hope you will learn from this and take responsibility for how you sei un po' tragic zia però anche te sei un po' tragic io te lo dico ti sei rovinata la vacanza perché delle ragazzine sceme ti han preso per il culo hai bisogno anche te di un analista però io te lo dico zia hai bisogno di andare dallo psicologo cioè se hai un'intera vacanza se hai un'intera vacanza rovinata per due deficienti allora te lo dico te non sei sana di mente hai bisogno di fartela analizzare perché non stai bene cioè so micchia allora ogni volta che vado in vacanza ogni volta che litigo con qualcuno basta vacanza rovinata no ma non è per quello non è per quello ma può avere tutta la ragione del mondo però che adesso si sia rovinata la vacanza perché ha incontrato due deficienti micchia allora ogni volta che io vado in vacanza e litigo con qualcuno bene devo tornare a Bologna vacanza rovinata finita vaffanculo grazie per di sempre grazie per di sempre e mi scelgo per i comportamenti di queste ragazze assordiamo dei serial killer assordiamo della gente a picchiarle spezziamogli le gambe dice che non vuole che ricevano insulti cioè esattamente cosa pensava che sarebbe successo si chiede esplicitamente di rintracciarle e farle vergognare un conto è se pubblica il video e basta dicendo guardate cosa è successo tu non hai responsabilità di quello che fanno gli altri di testa loro ma è diverso se dici cercatele e fateglielo pagare fatto sta che ovviamente come vi ho detto tutte le informazioni private di queste tre vengono messe su tiktok da altre persone sei tag dei loro profili privati che ricevono una mega shitstorm e tutte l'hanno chiuso o comunque messo privato ma anche i dati delle loro famiglie vengono condivisi in luoghi dove lavorano con il tag dei social e anche e soprattutto le università che frequentano e di conseguenza il tag dei profili social di questa università inutile dire che anche loro ricevono una marea di segnalazioni e hanno risposto pubblicamente in questo modo l'università cattolica che frequenta una di queste ragazze ha detto di fatto un gigantesco mi dissocio dicendo che loro mi dissocio sarebbe stato bellissimo il rettore mi dissocio hanno sempre promosso inclusione e rispetto che questo episodio non può essere imputato all'università e che faranno inclusione e rispetto conquista in terra santa e tanto tanto amore per i bambini e controlli ed eventualmente prenderanno proprio i dimenti un'altra università ha detto praticamente le stesse cose che loro sono contro ogni discriminazione e faranno altri sforzi per sensibilizzare i loro studenti a questi temi la terza università praticamente le hanno costrette tutte a rispondere ha ripetuto praticamente le stesse cose anche lei che anche loro si dissociano che promuovono il rispetto ma da quello che ho letto sono stati gli unici a dire fin da subito che non cacceranno la ragazza e che non supportano questo accanimento è ovvio c'è ma ci mancherebbe altro meno male che almeno in università c'è gente col cervello cioè porca puttana che cazzo ma meno male ma per fortuna perché all'università fortunatamente ci va gente che studia e ha un cervello funzionante voglio dire no proviamo la vita delle ragazzine perché hanno fatto le bulle ma scusate ma ti può dire a quelle tre piantatela e fare effettivamente qualcosa no ma gliel'ha detto però invece di fare sta bambinata su internet e fare la turbo vittima per un episodio di manco 15 secondi che è stato dimenticavo in meno di 5 secondi dopo ma guarda tanto grazie per il Ciro ma il problema è che Statisti aveva ragione fino alla parte iniziale fino all'inizio Statisti aveva pienamente ragione perché il comportamento è stato assolutamente bello educato ma è diventato tutto sbagliato dopo è diventato tutto completamente sbagliato dopo cioè tutto errato dopo Vanilla grazie per i no e Vanilla grazie per i sam anche perché mi dico che voglio dire queste qua siano persone sensibili poi cioè voglio dire è il contrario quello che lei ha fatto a loro è quello che lei ha subito per mille quindi voglio dire cioè non è che se dobbiamo combattere il bullismo col bullismo a me va bene però io cioè dobbiamo uscire a prendere testate in bocca alla gente a sto punto se vogliamo combattere la discriminazione con la discriminazione secondo me non ne usciamo molto bene però per lo stesso quindi cioè ora è chiaro che il comportamento delle tre ragazze in quel video sia stato stupido infantile ridicolo discriminatorio possiamo descriverlo in mille modi ma sì ma quello ci mancherebbe in nessun modo lo giustifico anzi anche io sono stato vittima di insulti e battute razziste e posso capire perfettamente come si siano sentiti da tiktoker che filmava no povero tweener dai dopo ti do un po' di cazza così ti senti meno e la famiglia del ragazzo nel dubbio niao ed è orribile le ragazze hanno sbagliato e hanno fatto bene a pubblicare il video dato che evidentemente interessava molti e molti altri hanno sfruttato l'occasione per raccontare le loro esperienze eh sì ma figurati poi la gente appena si attacca un attimo subito devi sapere che anche a me sono stati in vacanza lì e uno mi ha detto caccapupù e io ho pianto per una settimana la vacanza rovinata ma vaffanculo quindi ok una volta che abbiamo appurato questo che le tre ragazze sono comportate da bulle certo sarebbe comodo avere un video che mostra anche cosa è successo prima ma dal video che abbiamo si vede questo ma una volta detto questo penso che sia altrettanto vergognosa questa agogna mediatica più di 20 milioni di persone da letteralmente tutto il mondo America che non hanno un cazzo da fare aggiungerei Asia Europa qui in Italia che ti insultano che condividono i tuoi dati privati e della tua famiglia che cercano di farti cacciare dall'università di fatto avere milioni di persone che cercano di rovinarti la vita per 60 secondi in cui ti sei comportato male e siamo tutti d'accordo che il loro comportamento sia vergognoso e sono il primo a empatizzare con la ragazza che ha filmato ma assolutamente però io ho smesso di empatizzare dopo perché mi sta sul cazzo anche a me ma mi sembra che sia stata una reazione mi sta sul cazzo tutte quante in sto video non c'è uno che non mi sta sulle palle mi sta sulle palle le ragazzine perché sono seme mi sta sulle palle sta qua perché sta qua esaurita di alcune persone completamente spropositata è come avere una mosca in casa che ti dà fastidio allora decidi di dar fuoco a tutta la casa per ucciderla vabbè tipicazione americana stand mi sembra un po' esagerato nemmeno dei criminali ricevono un trattamento di questo tipo no infatti è quello che ho detto io anche perché tra tutte le persone che le insultano e le segnalano all'università sono sicuro che per la maggior parte di loro se non tutti in tutta la loro vita ci saranno stati 60 secondi in cui si sono comportati in un modo che se fosse stato filmato e reso pubblico davanti a milioni di persone beh non avrebbero fatto una bella figura ma è ovvio cioè è esattamente da quale pulpito la gente si permette di giudicare gli altri così tanto ma chi cazzo sei che sicuro come minimo come minimo tu sei una di quelle merde che sicuro ha bullizzato a qualcuno ha insultato a qualcuno ha fatto delle ma sicuro cioè come se fossero tutti santi sono tutti santi secondo me ha sbagliato quando ha preso il telefono e le ha registare mondo dovete capire che dovete farvi scendere le fantomatiche palle e dire a quei babbuini a forma di esseri umani scano scimmiottando ma il video ci poteva anche stare però che comunque nel video non vedo la tipa che registra dirgli qualcosa lei dice che gliel'ha detto lei dice che gliel'ha detto prima poi vero falso vai a sapere grazie per il ciro quindi cioè ma se dovessi contare tutte le stronzate che ho fatto io mi metterebbero a rogo o almeno me lo scriverebbero perché dal vivo gli rifilerei un pugno in bocca che gli ribalto per terra però almeno me lo scriverebbero cioè noi non avete idea della quantità di stronzate che ho fatto io nella mia vita cioè ma ci mancherebbe altro voglio dire ma chi non le ha fatte ma chi ma chi da ragazzino non ha avuto dei comportamenti di merda chi da ragazzino non ha dato fastidio a qualcuno o chi non ha in un modo o nell'altro si è comportato di merda o ha feriti i sentimenti di qualcun altro cioè e questi arrivano e si permettono di giudicare come se fossero i santi capito ed è giusto assumersi la responsabilità delle proprie azioni è giusto che vengano criticate per quello che hanno fatto come è anche giusto chiedere scusa se si sbaglia e in questo caso non fa eccezione ma avere milioni di persone in tutto il mondo che cercano di rovinarti la vita è davvero la scelta migliore si rovinarti rovinarti la vita ripeto ci provano perché nel senso lo fanno tramite social dal vivo o neanche morto non lo so in ogni caso fatemi sapere che ne pensate voi ringrazio come sempre gli abbonati e direi che ci becchiamo alla prossima si la gente vuole fare la giustiziera la gente vuole fare la giustiziera la gente vuole combattere e altre stronzate voglio dire perché si perché la gente è esaurita e quindi voglio dire allora allora io ora però kanunashi grazie per i 15 fattino abbiamo abbiamo tante di quella roba da vedere che divento stronzo ah scusate no però è uscito è uscito il video una notte nel quartiere trans di bangkok questo lo voglio vedere bangkok l'avete capita kok kok cazzo bangkok l'avete capita eh ahahahahah dai cazzo bangkok perché è quello che tu c'eri in quel quartiere vuoi far sesso con una lei ti gira kok etta danghede rettoscopia gratuita eh caghi per un mese dopo a spruzzo thai sticky rice di qua abbiamo pesce fritto questa potrebbe sembrare una classicissima stradina in cui comprare dello street food thailandese pensavo dove comprare questo non lo posso dire alex grazie per i 15 mi devo fermare questo non lo posso dire grazie per i 15 grazie per il risale mentre invece mi trovo a soy cowboy che è una delle vie più fa scommettiamo che sarà pieno di italiani? scommettiamo? quanto ci scommettiamo? no 600 500 sub alla maratona 500 sub esatte e facciamo la maratona dai cazzo ragazzi scommettiamo che sarà pieno pieno di italiani pieno di italiani ci scommetto quello che volete ragazzi scommetto quello che volete qui di notte l'attrazione principale però diventano i ladyboy ossia le donne trans thailandesi e voi adesso vi starete chiedendo ma dovevo arrivare in questo episodio beh forse pochi di voi sanno che le donne trans soprattutto qui in Thailandia nell'antichità erano considerate come delle divinità da venerare perché erano le uniche a possedere nello stesso corpo entrambi i sessi razzisti transfobici non hanno gli stessi sessi non ne hanno due sono donne non sono anche uomini thailandesi transfobici voi non capite la vostra cultura è transfobica la vostra religione è transfobica arruggo la situazione però oggi giorno è cambiata drasticamente perché queste ragazze sono spesso spinte obbligate a fare dei lavori legati al sesso alexandra grazie 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 alexandra palatina grazie mille belle cinque grazie mille di cuore palatina grazie mille davvero sei un amore alexandra grazie mille davvero no allora come dio no dio palesemente è una donna dio palesemente è una donna oppure è un uomo sessuale palesemente perché una persona è così incazzosa cioè se dio fosse stato uomo se ne sarebbe sbattuto il cazzo di vedere gente che tromba di continuo dio è una donna dio è una donna perché io ce lo vedo a Sodome e Gomorra uomini che si trombano con uomini di continuo e c'è dio lì così che fa sono così in collera con gli uomini dovrebbero adorare me non dovrebbero fare sesso tra di loro danno tutto per scontato credono che tutto quello che hanno gli sia dovuto non mi ringraziano mai abbastanza sono lì che si scopano gli uni con gli altri non mi pregano mai mi sento ignorata non mi sento abbastanza apprezzata credo di dover ricevere più attenzioni ma dovrebbero capirlo da sole non dovrei essere io a dirglielo sai cosa faccio? adesso li distruggo li nuclearizzo e li allargo così vedono così vedono dio è palesemente una donna palesemente una donna Leonardo grazie per il 18 patino grazie aveva il ciclo quando li ha uccisi tutti quanti è probabile la mia missione sarà incontrarle ascoltare le loro storie di trasformazione e capire cosa vuol dire essere un ladyboy in Thailandia il palcoscenico di questo episodio sarà questa via che anche se adesso vi sembra un po' spenta vabbè si accende la sera la notte si accende tutto viocco grazie per la salva ma ho letto coke la notte si accende tutto coccato coccato eh questo locale ci si diverte cazzo al coccato ci sarà ci sarà un tripudio di italiani sicuro proprio quello è italiano zio grazie per il ciclo e il paladino grazie per il salvo zinus grazie per gli 11 grazie per il salvo il mio nome è Giuseppe e ho una missione girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda cos'è per te la felicità benvenuti nel progetto happiness ah sono buone ma guarda guarda tu scherzi ma guarda che ci sono alcune ragazze transessuali che sono bellissime sono bellissime nonostante nonostante ovviamente magari nascano con dei corpi maschili ci sono delle ragazze transessuali che sono stupende non è che voglio dire cioè non è che le ragazze transessuali sono necessariamente tutte quante mascoline ce ne sono alcune che sono veramente belle esteticamente poi vabbè che se siano operato o no quello è un altro discorso la serata è iniziata alla grande a solito voi tantissime ragazze per strada tutte mezzo nude tra l'altro sembra di stare a riccione nella notte rosa vabbè quello ci sta alcuni sono carini alcuni no non si sono ancora tagliati il cazzo alcuni sono così così perché non si sono ancora segati il cazzo non è per via il cazzo niente facile intervistare dei ladyboy perché non vogliono esporsi non vogliono farsi riprendere perché molti di loro tengono nascoste alle famiglie e il loro lavoro o addirittura la loro trasformazione vai neri tenere nascosta la trasformazione la vedo grigia se linda vittoria c c c linda vittoria c c c c c c c c credo che stia cercando di vendere un immobile di 97 metri quadri a tre piani completamente ristrutturato con aria condizionata riscaldamento autonomo interni assolutamente nuovi ai vicini di casa che cazzo vuoi che stia facendo scusa che cazzo vuoi che stia per fare cioè non credo sia un'arredatrice di interni voglio dire stanno aspettando di ricevere un po' di cazzo cosa vuoi che stia facendo oh I'm relaxed si si siamo rilassando work no relax just relax yes because I have many many money ah you have many money hai molti soldi e vai in giro con una bottiglia di birra mezza vuota in mano no di che non vuoi dire quello che fai fai breve ma guarda devo dirti la verità faccio la tester di materassi e sopra il materasso c'è un uomo sdraiato e io testo il materasso con l'uomo sdraiato saltando sui piselli però voglio dire l'ho don togliato che lavoro fai guarda di giorno cerco di far collimare la teoria relativistica a quella della fisica quantistica cercando di trovare la particella associata alla gravità al CERN di Ginevra però di sera mi diverto a farlo no I don't have job you don't have job yes because I have customer because customer everything but which kind of customer you see Cartier means Cartier yeah nice nice esiste una persona esattamente come te che tutti i mesi guadagna non dire stronzate non esiste nessuno come me pezzo di merda uno nuovo ciao thank you very much eh ciao ciao vabbè questo non lo poteva dire dai questa non la poteva dire la cosa avete visto che questa ragazza non mi ha detto che lavoro fa perché in realtà è illegale qui what are you doing here ma questo è diretto visto la ragazza non mi ha detto cosa fa perché è illegale qui cosa fate stiamo cercando clienti per scopare non far caso la mia risata è incontrollata e si fili dal terzo stadio ma compromesso le attività neuronali mi sta divorando il cervello aiuto no no questo fuma cannone ora secondo voi da chi l'ha imparato da chi l'ha imparato secondo voi da chi l'ha imparato pensateci un attimo pensateci un attimo chi le avrà insegnato che si dice cannone sicuro da un italiano sicuro ha detto cannone ha detto cannone cannone come ti dice cannone come ti sapevi? alla italiana ecco grazie mille ci scommettevo i coglioni grazie per dire il malatino si un boyfriend davvero si scopa allora no dubito fortemente che ci siano persone felici che lavorano lì o almeno io non ho mai sentito a meno che non sia un escort strapagata sono molto cara mille bat e non so quant'è cos'è mille bat scusate devo fare la conversione però perché voglio capire bat euro a mille quindi mille in poche parole sono ah 25 euro 25 euro vabbè vabbè oh è il prezzo base è il prezzo base per le prostitute in realtà no vabbè 25 euro più o meno dove dove quanto dove oh vabbè più o meno è il prezzo standard ragazzi ragazzi guarda voglio no voglio voglio aprire un negozio per vendere marijuana buonasera capo papera sono entrato adesso in live cosa sta succedendo un bacione stiamo vedendo un video in un quartiere di Bangkok grazie ragazzi grandissima grandissima naturalmente le auguriamo di coronare il suo sogno perché questo è un sogno straordinario grandissimo non caga poverina non caga poverina è un po' stitica non caga poverina grazie 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 mi sono allontanato un attimo dal casino perché è proprio in questi momenti che io vi devo ricordare di proteggervi sempre soprattutto in via non rivendere per 30 giorni gratis nel Red District di Bangkok ci sono intere vie piene di centri massaggi massaggi centri massaggi ti massaggiano la minchia centri massaggi cioè voglio dire qua prima ti fanno la sega poi ti chiedono se vuoi anche il massaggio qui il massaggio completo si intende cazzo poi corpo perché qua è la minchia la prima cosa è essere massaggiata è inutile dirvi che il massaggio è semplicemente un modo più soft per vendere sesso eh ma va non mi dire mi massaggi la cappella col culo cioè l'avevo capito non è che voglio dire e la mia attenzione si ferma su uno di questi in particolare perché è gestito solo da Lady Boy mi fermo un po' a chiacchierare con loro e addirittura ci invitano a bere ah e fu così che il nostro carissimo Giuseppe si svegliò la mattina dopo un attimo intontito con uno strano dolore al buco del culo e della sborra nei capelli ma questa bambini è tutta un'altra storia ahahahah sono le due di notte però non si può più prendere da bere nei negozi comuni ci sono quelli clandestini che riportano questa ragazza gli ha portato del whisky buon gusto per te thank you very much when do you finish tonight 24 hour 24 hour madonna mia che staccano visto you work 24 hours do you work only here or you work in another place only here good money no 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 we buy it ci sarà più d'estate immagino 30 30 cosa 30 millilitri di sbunia infatti ci sarà più d'estate immagino but do you like this job si mi faccio il culo però ah guarda questo è un lavoro che ti lascerà a bocca aperta mi diceva what did you do before no enough money la più giovane forse grazie al whisky si apre un po in che senso in che senso scusate l'abbiamo già visto l'abbiamo già visto tempo fa molto bello quel video e mi confida che si sente sola e che le manca tantissimo la sua famiglia ma che purtroppo non può più tornare nel suo paesino perché non accetterebbero mai il suo cambio di sesso e per questo è costretto a fare un lavoro così duro mi era triste ascolta però per favore ascoltami per favore senti io già sono stanco è un periodo che sto dormendo poco sono stanco sono molto turbato potresti però potresti per favore sto cercando di empatizzare per quanto sia frank grazie per il 16 mattino grazie per il 16 potremmo voglio dire eh l'amore così duro scontare le sue parole ma credo che la maggior parte dell'era ciao andrea ho scoperto il tuo indirizzo sono meglio di un detective lo posso dire tu abiti a bologna via delle papere 88 al piano superiore lingua fuori mi hai scoperto ballaggio grazie ragazzi che sto incrociando per queste strade non lo faccia per passione ognuna di loro ha una storia che le ha portate fino a lì questa è una pallina e questa è una rete che cos'è? ma questa non è solo una borraccia è una borraccia Irap che aggiunge gusto all'acqua grazie all'olfatto retronasale e nient'altro si è Maurizio invece è Pierluigi parecchio desidratato non sai cosa ti perdi Pierluigi Irap molto più di una borraccia Pierluigi vai in Thailandia che lì ti fanno anche le sborracce evidente ahahah perhaps They massi grazie per il contributo Ass거 grazie per risveglia pensando è come quando devi prendere il volo No, io non ho mai pensato che in Thailandia foste tutti quanti accoglienti perché c'è del turismo sessuale, in realtà non so chi lo penserebbe Roxy, grazie per i 5, Nico Robi, grazie per i 6, grazie per i 7 Io credo che a parte la civiltà occidentale non ci sia molti altri posti e non li categorizzano come uomini Oh mio Dio, zio hai beccato la Maria Sofia Thailandese E' per questo motivo le persone li chiamano Ladyboy E' come, a volte è confusante, sai? Ci sono persone che riusciano con te o ci sono persone che riusciano a te E' come... Non sono accettati, sono tolerati Ma potevate mettervi a parlare un po' più in là, c'è un bordello della madonna Ci sono comunque due domande da farsi Perché ci sono così tante prostitute in Thailandia E perché ci sono così tanti Ladyboy Allora, il primo motivo è che ci sono un sacco di italiani e quindi... Ahahahahahahah Tieni a mente che dove vanno gli italiani aumentano le prostitute Proprio è una questione, è come lo spread, capito? Noi italiani siamo come lo spread Più aumentiamo nel punto dove andiamo noi Più aumentano le prostitute nel luogo E' proprio una consecuzio, causa-effetto Perché ci sono così tanti Ladyboy Non ho idea Allora, la prima ha tre motivazioni Motivazioni storiche Perché è iniziato tutto nel 1900 più o meno Quando un'immigrazione fortissima dalla Cina è arrivata in Thailandia E quindi si è... Ha incominciato ad arrivare la prostituzione per la povertà Seconda La seconda guerra mondiale Con i giapponesi, i soldati giapponesi La terza La ragione del boom della prostituzione in Thailandia E' purtroppo dovuto dai soldati americani Mentre per quanto riguarda i... Ah beh, gli americani... Beh, anche gli americani... Beh, i soldati, sì Cioè, non erano infervorati come noi italiani Però... Andrea, sei mai stata donne? Immagino tu intenda prostitute E la risposta è no Perché mi fanno schifo, zio, ti dico la verità Mi fanno proprio schifo Cioè, non ce la faccio Mi sanno di malattia venerea Mi dispiace, mi sanno di malattia infettiva Non ce la faccio Mi fanno proprio schifo E poi ho sentito più di una storia Di uno che si è beccato all'AIDS No, grazie, sto bene così Sto bene così Se ho dei problemi con il sesso Mi prendo l'uccello in mano Sto bene così, grazie Sì, vabbè, meglio l'esco Vabbè, no Quelle di lusso sto cazzo, zio Ma tu pensi che io spenda Due, trecento euro per una trombata? Ma che cazzo di... Trecento euro per cinque minuti Dove faccio così? Ma che cazzo stai a dire? Ma sei fuori? Ma sei pazzo? Poi sparo una seghe Ho solto il problema La mia palla destra Grazie per i cinque Grazie per i cinque Poi ci siano così tante donne trans Qui in Thailandia È un po' più complesso da capire Ma sembra che sia per la religione Perché In che senso? Scusami Qui in Thailandia La maggior parte delle persone È buddista E il buddismo accetta questo dualismo All'interno dello stesso corpo Che ci sia sia l'uomo che la donna Ma scusa AHAHAHAHA AHAHAHAHA Pachi grazie per i cinque Vale, grazie per i due Grazie per i sappatini Buddha Sei transfobico Buddha Bastardo Loro sono donne Non sono uomini E donne insieme Sono solo donne Buddha transfobico Bruciamo le statuette In un corpo solo, che in fondo in realtà lo siamo un po' tutti, sia uomini sia donne Ma guarda, ti dico la verità, effettivamente ieri ho sbattuto con la macchina mentre parcheggiavo, guarda una roba Scusate In strade come queste, le nostre telecamere non passano di certo inosservate E infatti ci si avvicina una ragazza curiosa del nostro lavoro Senza sapere che da lì a poco saremmo stati noi più curiosi della sua storia Qual è il tuo nome? Bayouan Bayouan? Sì What does it mean? Like some power in Thailand Flower? Yeah I just wanted to know you a little bit more Because we are doing a reportage We are doing a reportage I'm traveling around Have you been with Nelly Boy before? Never Lui si vede molto che è maschile, lui si vede Perché ci sono quelli che proprio sono molto maschili, lui si vede molto effettivamente È molto difficile, cioè lui si vede che ha il corpo molto maschile perché è gigante, capito? Poi c'ha la voce così, nel senso si nota abbastanza Never Never When did you do the transaction? You mean physically or mentally? Beh, non penso fisicamente Mentally first Stai dicendo che da bambina ti piacevano più le bambole e i giochi da ragazza? Buuuuuh, misogena! I colori e i giocattoli non esistono da uomini e da donne! Sono tutto un costrutto sociale creato per inculcarci l'idea! La mia famiglia ha avuto, eh, non accettato che io voglio provare a essere un uomini Ma con il passato Trump, lui ha cercato di accettare più E io credo che sono fortunato che ero bambino nella generazione che ha accettato Sì, e questo è una cosa buona, è una delle poche cose buone che ha le nostre generazioni Quella di essere più tollerante, fortunatamente Accettato di lavorare più Sì, le donne più grandi hanno avuto una vita più difficile Credo che nel passato è più difficile Ma sola volta sono andato dalle signorine del bordo strada Dico solo che il soldato semplice non riusciva a stare sull'attenti all'alzabandiera Tranne gli ultimi tre secondi in cui è arrivato Di certo la mia, forse, futura fidanzata non dovrà preoccuparsi che la tradisco Perché è impossibile Mamma mia Vabbè, ma lì ci sta, vabbè, lì ci sta un discorso a parte Ora è più difficile Ma guarda, non più di 5-6 volte a settimana e non più per due ore Ma io pensavo che anche lei fosse sul mercato No, io pensavo che lei fosse una prostituta Invece no, poveretta, è solo un... Scusate, mi è venuto a mettere una cosa cattivissima Andavo per dire, noi abbiamo lo stesso discorso ma con OnlyFans Scusate Questa è un po' troppo cattiva Anche per me Pomello, grazie per gli otto patutini Grazie per gli otto patutini Oddio Eh, mi dispiace ragazzi Più una battuta è cattiva, più mi piace Non ci posso fare niente È insito in me Non posso Non posso cambiare Sono così Non posso cambiare Per alcune persone, la vita non è facile Non so, io capisco Perché credo che così molte ragazze e ragazze Tranzi e ragazze Endavano lavorare in questi club Già, grazie per gli otto patutini Scusate Per essere sincero, perché È facile da ottenere i soldi Sì Inoltre, magari In altri paesi Non sono accettati Non possono fare altri job Non sono arrivati Non sono arrivati Non sono arrivati a fare altri job Più di questo Inoltre, credo Se vengono all'università E studiare E non sono arrivati Sì, ho capito Non è così ovvio Però, cioè Tu l'hai detto come se fosse una cosa così scontata Cioè, non è assolutamente così ovvio L'università è un luogo dove si paga e si studia Però tu devi anche avere Un certo tipo di propensione mentale Allo studio Cioè, tu devi essere una persona Che è stata indotta allo studio Se tu sei una persona Che non ha mai studiato E non riesce a fare l'università Non è proprio la mentalità per farla E quindi voglio dire Tu razzo, grazie per i senti E per il latino Grazie per i senti No, no job All your friends Sì, ma normal job Ma perché uno dovrebbe Allora, però adesso Adesso dirò una cosa che non c'entra niente col sadismo Un discorso di senso Giacomo Misma, grazie per i venti Grazie per il latino Cioè, normal job Scusa un attimo Ma perché Adesso Ma perché in Italia Una ragazza Che Non riesce a trovare Un posto di lavoro A contratto indeterminato Per un mutuo Gli chiedono Mille euro al mese Per riuscire a ottenere Un qualche titolo Se non è raccomandato Perché una ragazza in Italia Non dovrebbe, non so Per dire Per l'appunto Aprirsi Olifan E fare i soldi Perché non dovrebbe Per la morale Per la sensibilizzazione Ma io ti mando a fare in culo Cioè Ma va a cagare Te, la morale E le tue idee di merda Cioè Io devo vivere come un miserabile Perché tu Pensi che quello che io faccio Sia sbagliato Io ti do una pedata in culo E ti mando a fare in culo Cioè Se in Italia ci fosse una situazione Di benessere economico Che uno dici Oh Potevo uscire Trovare un lavoro Da duemila euro al mese Fisso Allora dici Boh Fa questa cosa qui Che strano Però sto cazzo Cioè voglio dire Io se fossi una ragazza Lo farei subito Lo farei subito Perché Voglio dire Scusami Perché cazzo Devo andare Perché cazzo Devo andare A farmi il culo Con un lavoro di merda Che mi licenziano Dopo tre mesi Con 800 euro al mese Per 250 ore Perché tu pensi Che questa cosa che faccio Io sia sbagliata Ma vaffanculo Te e la morale Cioè Ma proprio Non esiste proprio Ma chi siamo I paziti È normale In momenti di crisi In momenti di crisi Si si inventa Nuovi lavori È normale Convinci la lontra No perché come ho già detto L'altra volta Non credo riuscire a accettare Che lei faccia quella cosa lì Ma quello è un discorso mio Che riguarda me E la mia ragazza Non riguarda la persona In sé È un altro discorso Io Quella è una cosa Che riguarda me Io ho detto Che se lei E se lei aprisse I fan Io sarei molto Contrariato Perché a me Che la mia ragazza Si faccia fare le seghe Che la guardano Non è gelosia Non è gelosia Io non accetto Che la gente Si faccia le seghe Sulla mia ragazza Punto Non che non può farlo Non che non può farlo In generale Perché ognuno della vita È essere libero di fare Quello che vuole Ma io non l'accetterei mai Se la vuole fare Sta single Il problema risolto Fine Però non è quel discorso Io non sto dicendo Che uno non deve Io sto dicendo Che in un contesto del genere Perché uno non dovrebbe Perché uno non dovrebbe farlo Poi vabbè Lascia perdere il mio discorso Che riguarda la relazione Riguarda la relazione amorosa È una cosa mia È una cosa mia personale Di sentimento Ma non è che riguarda Il discorso di farlo o no Se uno vuole farlo Che lo faccia Sti cazzi Sei troppo chiuso Ah ma qui viene il bello Che non me ne frega Un cazzo E qui è il bello Capito E qui viene il bello La cosa bella È che non me ne frega Un cazzo Non me ne frega Un cazzo Mi possono scrivere Nei DM Mi possono insultare Mi possono fare Dei video contro Mi possono venire Non me ne frega Una ceppa Di cazzo Proprio Zero 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 Però Al di là di quello Che provo io Sentimentalmente In linea generica Perché una persona Non dovrebbe farlo Io sono il primo a dire Fagli atti Olifan Io sono il primo a dire Se a me in chat Una ragazza mi dicesse Mi consigli di fare Olifan Io ti direi Sì Fai Olifan Apri Olifan Fai quello che devi fare E fai soldi Perché in questo paese Di merda Non c'è possibilità Di fare carriera O di fare lavoro Se ci fosse la possibilità Di fare carriera o lavoro Dici oh Viviamo in un paese In uno stato di benessere economico Ti dico senti vai a studiare Ti trovi un lavoro migliore Nel paese in cui siamo oggi Se una ragazza mi chiedesse Di fare Olifan Ti direi sì Fatti Olifan Fai i soldi E manda a fare in culo Le persone che ti dicono Che tu non dovresti farlo Cioè Perché è solo una conseguenza logica Della crisi economica Che c'è in Italia Voglio dire Voi maschi cosa facciamo? Come cosa fate? Voi maschi pagate l'Olifan Scusa un attimo E come fanno a guadagnare le signorine? Voi maschi dovete pagare Olifan Sei un uomo? Sei un maschio? Eh? Sei un uomo? Lo sai cosa fanno gli uomini? Gli uomini guadagnano Più delle donne Gli uomini lavorano E prendono più soldi E gli uomini mantengono le donne Perché le donne devono stare in casa A fare le casalighe E a vendere foto dei piedi Occasionalmente Scusate Hai visto che hanno bannato Gsk Paianto? Perché? Perché hanno bannato Gsk Paianto? Perché ho Non vedo nulla di spazio Perché l'hanno bannato? Spiega Adesso l'hai detto Mi devi spiegare Dormiva troppo Eh ragioni In effetti Non so Perché l'hanno bannato? No Spiega Spiega E non mi puoi dire così E non mi spieghi Devi spiegarmi Si è aperto Olifan Ah ho capito Spiegami In che senso? Perché? Anche senza i cir Però spiegamelo Dormiva sul posto di Dormiva sul posto di lavoro Perché? Spiegami il motivo Non mi puoi dire così E poi te ne vai Spiegami il perché Cyberbullismo Ma che cazzo dici? Che cazzo stai dicendo? Non si sa il perché Sono sette giorni di ban Ma perché? Vabbè Dopo gli scrivo Per sapere cosa è successo Per curiosità A sto punto Dopo gli scrivo io Perché non si riesce a capire Quindi Che carina però Vai in ospedale Trovi il medico Con una sega circolare Che ti trancia l'uccello E una volta fatto Dopodiché 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 Ti tranciato l'uccello Ti apre Davide Grazie per i 14 Grazie per i 14 Come tu Io faccio Molto Di Surgere Penso non ne serve Più di uno In effetti Sì Puoi chiedermi Dialetica Quali Quali Surgere Hai Alla mia Festa Sì Alla stessa Stai 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 Ma guarda Un irrefrenabile Voglio di parlare Completamente A caso Avevo smesso La mia incapacità Più totale Di guidare Dai lo smetto Scusate Dai lo smetto Scusate Dai lo smetto Troppe battute Sulle donne Stasera Dai Sono troppe Anche per me Dai Non posso farne Così tante Sono troppe Dai Mi sento in colpa Anch'io Poverina Che le donne Sono così carine Mi sento in colpa Guarda Una cosa incredibile Sono uscito A razzeccare subito Lo smacchiatore Ho pulito Tutta la casa Ho preso il mocio Ho cominciato a lavare Per terra Orlando I club Aiuto nessuno In questa casa C'è la schiava Vero I feel more like a woman I think Really? Not much hair Not much The skin is smoother And sometimes When you take Many hormones It make you Less Feel less sexual Really? Yeah Less horny Yeah Sometimes If you take Much hormone But you have to go through Psychologists No The node I Who Don't have to Meet a psychology But if you want to Shake like Like a Little pussy You have to Meet a psychology Have you ever Think about it? In the past Yeah But right now I think I'm okay With it You're okay? Yeah You're happy Yeah You feel like You are In the right body now Yeah I'm happy to have this chat with you Because you are like A positive Let's say example Of a trans woman Who succeed To have like A different job Lo vedo un attimo sbrozzo lui Lo sto vedendo un attimo sbrozzo Instead of a sex job Many factors in their life For them to do with Like money To keep The family To take care of Something like that So Some people Have no choice And I say Some people Like it's not easy Comunque Bangkok è abbastanza frequente Perché ho sentito anche Di più di una persona Immagina diventare transgender Perché sei l'unica persona In famiglia Non hai donne E di conseguenza Non hai nessuno A cui far fare Le facende casalinghe Che ti diventi tu Il casalingo Della famiglia Cambiando sesso Comunque ho sentito Tantissime persone Che sono andate in Thailand A farsi l'operazione Adesso io non sono pratico Non so se in Thailand Esistono delle convenzioni O Non ho idea Ho fatto 8 anni Stratti rocini E contrattini Del cazzo Prima di trovare Un lavoro stabile Da me stanno cercando E l'ultimo Che è venuto a provare A uno Non è andato a fare Una semplice mansione Che gli aveva chiesto Il caporeparto Due miglia Ha risposto Facendo il verso Di Ciubecca 2 E stato beccato A dormire Sopra la scrivania Quando ne io Che il mio collega Non eravamo presenti Sì vabbè ma avete assunto Un demente però C'è un caso umano Cazzo è benissimo Yeah We take this one Where we going We going to Nana Plaza What is there It's like a nightlife State of Bangkok They are Bar Club In Thailand In Thailand Sono cliniche all'avanguardia Infatti molti vanno là Coco bar Coco bar Yeah Everything you want In a Nightfly I heard that There are also Other shows Ping pong show Yeah What is that? Like A naked girl show Or something La ragazza nuda Mostra qualcosa Con la sua vagina Qualcosa Qualcosa Cosa Scusami Tiene le bacchette Cinese Con la patata Ti imbocca Si mette a gamba aperte Con la patata Prende le bacchette Ti imboccati dalla manzana Extremus Grazie per i senti Valentino Grazie per i senti Cazzo vuol dire qualcosa Tiene la racchetta De la ping pong Che gioca con la vagina Gioca con la vagina E la Okina Battam A beer Something like that Really? Yeah Adesso 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 Qualcuno Mi deve spiegare Come fa Una vagina Ad aprire Una bottiglia Di birra Io voglio capire Come sia possibile Questa cosa Gabri Grazie per i senti Valentino Grazie per i senti Ah c'è qualcuno Mi deve spiegare Come cazzo fa Una vagina Non è stato assunto Infatti Semplicemente Sto qua E venuto a chiedermi Perché Io gli ho risposto Rispondimi Fa solo perché I titolari Sono quelli Che decidono Vabbè Che scemo La cia per Grazie per i senti Io lo faccio Tutti i giorni Ma ho prendi la birra King Vabbè tranquilla Easy Wow E also Balls of Like ping pong balls Give you the ball From her pussy And you Ma come scusa Ma come ti lanci Una pallina Di ping pong Dalla vagina Ma che cazzo Un cannone Ma che cazzo vuol dire La ping pong And hit The ball Yeah Ma cosa vuol dire Devi colpire E rimandargliela dentro Con la racchetta Devi fare E devi rimandargiela dentro La pallina Se la rimetti dentro Fai punto Wow Ho chiesto a Bayawan Di chiedere al tassista La soniere Batti lei Ma se ne pensa Dei ladyboy Dei transuna E sono curioso Di sapere i conquici Tusk Do you ask him In Thai? P.E. P.E. non ho potuto si, ha avuto molti amici ha avuto una amici? è un amici non ho potuto non ho potuto cosa pensa se il mio figlio voglia di essere un amici se si ha avuto un amici e se si ha avuto un amici ma guarda non è un discorso così ovvio ragazzi non è un discorso così ovvio considerando che in paesi come l'Italia sentire gente fare un discorso del genere è abbastanza raro, io te lo dico non è un discorso così scontato da sentire lasciare la libertà al figlio di fare quello che meglio crede con il proprio corpo, ve lo dico è quasi incredibile sentirlo perché vivendo noi in Italia una cosa del genere per noi è quasi incredibile da sentire è quasi incredibile non è così ovvio, non è così scontato di te adesso in questo trip sono tutti ragazzi credo che 50-50% Simo grazie per voi non ci sono molte tante massaggi come dice tante massaggi ma poi penso che alcuni si ma quando entri ti offrono un tante massaggio e poi al fine magari un happy ending penso che è molto in questo trip vabbè ovvio se l'happy ending che è la prima cosa poi dopo c'è il massaggio happy ending massaggio weed became legal yeah but not prostitution yet yeah what do you think? they should stupid stupid yeah scusami yeah weed became legal gossip cioè lì hanno legale il'erba ma non la prostituzione ha 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 approximately cioè lì è l'erba che è legale ma la prostituzione no ma che cazzo vuol dire ha 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 va vabbè priorità priorità del paese va.. va bene ok vabbè Pfff Fabiano grazie per i tre ma Fo grazie per i sub hush grazie per i cino è tutto al contrario è tutto all'inverso a parte il fatto che personalmente parlando io credo io credo che in Italia bisognerebbe non legalizzare perché legalizzare non vuol dire niente ma statalizzare la prostituzione dovremmo riaprire le case chiuse dovremmo riaprire le case chiuse e forse dopo degli studi anche legalizzare la marijuana perché ci servono i soldi e noi sappiamo benissimo che l'italiano medio quando si tratta di spendere soldi puttane e droghe quello si sputtana tutto lo stipendio quindi io direi che in Italia dovrebbe essere anche tu io credo che in Italia bisognerebbe assolutamente legalizzare la prostituzione regolamentare la prostituzione e legalizzare magari anche la marijuana bisogna fare degli studi ma secondo me bisognerebbe perché stupid yeah they should make it legal yeah why eh ma se apri le case chiuse poi diventano case aperti di oh mica quelli se dopo gli avvocati divorzisti quanti divorzi cominciano a fare i divorzi in Italia aumenterebbero del 400% barbalo grazie per l'anno palatino grazie mille per scritto ma la mia mecca mi sento sempre quando palatino dipende detto così non so non so esattamente cosa vuol dire dipende cosa intendi specificamente perché se segwo 후보 è legal e non ha una Только con laвинura social e non ha più e io penso è un' banks che tratta di l'inforzo di thailand e quindi tra le flag Eh sì, non è così ovvio, non è che le sex workers ce l'ha scritto in fronte. È stato davvero un colpo di fortuna incontrare Bayawan e così decido di fare proprio a lei la domanda più importante. Vabbè lei è la classica persona che è contenta di avere una vita all'omare, un lavoro normale e ci sta, perché assolutamente, perché comunque la felicità può anche essere, può anche derivare dalla quotidianità, dalla routine sicura e costante. Preoccupato perché lei è iniziata a fumare e fuma tanto, quasi tre puff al giorno, ma quanti anni ha scusami? Quanto anni ha esattamente? Sì, se vuoi farlo abbastanza, puoi essere whatever, puoi essere felice, sì, e essere felice. Mi sento come se Bayawan mi avesse fatto un vero regalo nel condividere con me la sua storia. E mo fammi sta pompa! E invece per te quella è la felicità, vieni che te lo spiego. Diciassette, oh zio, una persona che inizia a fumare è inutile che gli stai a spiegare che non deve fumare, perché più tu gli dici di non fumare più lei fuma, quindi è assolutamente inutile. Bisogna capire il motivo per cui ha iniziato, ma è inutile che tu vai a dire a una persona che fuma di smettere di fumare, perché non smetterà. E dirgli che fa male non serve a un cazzo, cioè, nel senso, io quando fumavo le sigarette a me dicevano, guarda che fa male, io, ma va, no, ma dai, non me lo dire, non me ne raccordo. Cioè, quindi è inutile, voglio dire, che gli dici di smettere. Bisogna capire cos'è che l'ha portata, se è qualcosa che la stressa, ma non è che digli di smettere, anzi, più gli rompete il cazzo, più lei fumerà. Perché si sentirà stressato dal fatto che gli rompete il cazzo e fumerà di più, quindi... Una storia di grande trasformazione e immagino di immenso coraggio. Non posso nemmeno immaginare come ci si possa sentire a nascere in un corpo che non è il tuo. E ascoltarla oggi, così sicura, centrata e fiera di se stessa, mi ha fatto sentire bene. Bene perché è stato duro invece documentare la notte di chi, per necessità, non può vivere la propria trasformazione così. Con un obiettivo personale raggiunto con orgoglio, ma deve venderla, e usarla, per guadagnarsi una vita migliore. E così, camminare... Ma che cazzo... Non potevo chiedere a un amico di ospitarmi, perché anche se avessi trovato un lavoro per pagarmi gli studi, avrei dovuto vivere a scrocco per undici. Tali sono gli anni di studio di medicina. Ma scusa... E a Bapoli, con dodici ore al giorno, sette giorni su sette, ti pagano in reno 300. Scusa, fammi capire, tuo padre ti ha sbattuto fuori di casa perché tu vuoi fare il medico. Ma... Non l'avevo mai sentita... Mi è nuova! Non l'avevo mai sentita una roba del genere io! Ho fatto il soldato per quattro anni. Mi è nuova! Ho vinto i concorsi, ma sono stato fatto fuori alle graduatorie finale, ho scartato per articolo undici. Scusami... Ora faccio la guardia giurata e mi sto facendo il mazzo per pagarmi gli studi e ho ventotto anni. In che agenzia sei per curiosità? Grazie per il giro. Scusami, non ho capito, ma... No, non puoi denunciarlo, perché se ha 28 anni e il padre ti sbatte fuori di casa non puoi denunciarlo. Ma no, scusami, non ho capito, è tutto il contrario. Cioè, tu volevi fare il medico e il tuo padre ti sbatte fuori di casa. Ma scusami, ma non è che è niente che volevi fare il camorrista. Non è niente che volevi fare lo spacciatore. Scusami, il medico, cioè, cazzo, dovrebbe essere il fiero di te tuo padre. Ma come? Scusami, dovrebbe esplodere d'orgoglio, mica cacciarti di casa. Ma che cazzo? Ragazzi, ma che cazzo di genitori avete? Ah, il metto, grazie per i due, patino, grazie per i sal. Ragazzi, io mi sto preoccupando. Ma che cazzo di genitori avete? Ma veramente mi sto preoccupando, ragazzi? Ma più passa il tempo, più mi raccontano delle storie che... Cioè, voglio dire, genitori millennial, difficile. Se lui ha 28 anni, è poco probabile che suo padre sia un millennial. Però, ragazzi, io veramente, io rimango passito. Andando per queste strade ora è difficile non desiderare di vedere oltre i vestiti. Oltre le luci.